In questa video guida parliamo di termometri infrarossi. Vedremo cosa considerare per scegliere il miglior prodotto. I termometri ad infrarossi permettono di misurare la temperatura di un oggetto o una persona senza dover entrare a contatto diretto con essa. Essi vengono utilizzati principalmente per misurare la temperatura delle persone prima di farle entrare all'interno di un'attività o un luogo di lavoro, magari per evitare che entri qualche soggetto influenzato. Un altro tipo di uso che si fa è quello per misurare la temperatura di cose come i forni a legna, per capire se sono pronti per essere utilizzati. Un termometro ad infrarossi mostra la temperatura media di tutto ciò che rientra nel suo campo visivo. Ciò ci fa capire che più siamo vicino all'oggetto del quale vogliamo misurare la temperatura e più preciso sarà il risultato che ci verrà fornito dal termometro.